e nel frattempo come avete visto abbiamo iniziato il recording e come potete vedere ci sono io che sono il vostro affezionatissimo Mattia Caniglia, per chi non mi conosce sono il responsabile del desk geopolitica e sicurezza della fondazione De Gasperi e sono il responsabile di questo progetto che la fondazione De Gasperi lancia in cooperazione con la Nato e che si chiama Young Voices Against Disinformation Building Resilience, è un progetto che portiamo avanti da circa un anno con i nostri amici della Nato e che ha coinvolto finora una ventina di esperti su quelle che sono i fenomeni della fake news, della disinformation, della misinformation e dell'information warfare e il cui obiettivo come abbiamo già spesse volte ripetuto è quello di costruire un'awareness nelle generazioni più giovani di come sta cambiando il panorama dell'informazione e di quali pericoli sono collegati all'informazione in generale e abbiamo visto nel primo evento di questa seconda parte del progetto un po' come questi eventi vanno a toccare gli equilibri della politica interna di un paese con un focus specifico sull'Italia, quindi che ruolo hanno le fake news, la disinformazione nel cambiare equilibri politici e invece con noi oggi abbiamo Andrea Molle che è Assistant Professor alla Chapman University in America e poi anche Senior Research Fellow a Start Insight che è una realtà molto interessante che è a metà fra l'Italia e la Svizzera. Andrea oggi ci andrà a parlare proprio diciamo del punto di contatto fra quelle che sono i fenomeni della disinformazione, della disinformazione e delle fake news e quindi anche soprattutto le teorie cospirazioniste e come queste cose si stanno, questi fenomeni si stanno in un certo senso, in inglese si direbbe weaponizing, quindi stanno diventando dei fenomeni quasi armati, pericolosi da un certo punto di vista e che tipo di influenza stanno avendo sui movimenti estremistri, siano questi di estrema destra, siano questi di estrema sinistra e direi io, questo è un po' più il mio campo, anche in realtà di stampo jihadista. E quindi senza ulteriori induggi, Andrea grazie di essere con noi. Scusatemi tutti, mi sto rendendo conto che ho questa voce molto calma da venerdì sera, questa sera, non so perché, ma in ogni caso Andrea grazie di essere con noi, benvenuto. Grazie a te Mattia, spero che segnalarvi forte e chiaro, che riuscite tutti a sentirmi. Grazie per l'introduzione, grazie alla Fondazione De Gasperi per avermi invitato a parlare di un tema che in realtà mi appassiona tantissimo, sebbene sia una cosa alla quale sono arrivato recentemente, perché io di fatto nasco nell'ambito della scienza politica, delle relazioni internazionali, come studioso di religione e relazioni internazionali. Sono avvicinato a questi movimenti, in particolare al momento QAnon, proprio per la sua componente, la sua similitudine con delle organizzazioni religiose, diciamo così, devianti, per non dire terroristiche, tra quale ovviamente rientra anche poi tutta quella galassia del fenomeno jihadista di cui Mattia ha accennato. Io vorrei, così, vorrei condividere con voi alcune mie riflessioni, a partire da QAnon, ma anche poi relativamente a poi a questo impianto più generale che va a studiare come la disinformation e la misinformation contribuiscono oggi ad un aumento delle tensioni sociali e in particolare ad un aumento della sfiducia nei confronti delle istituzioni, dalle istituzioni politiche alle istituzioni poi più alle organizzazioni, istituzioni sociali come i media o altre organizzazioni importanti, perlomeno tradizionalmente, nell'ambito del tessuto di una società. Ecco, io vorrei cominciare condividendo questo mio PowerPoint, se è possibile. Eh sì, ci siamo, ci siamo. Dovreste riuscire a vederlo completamente. Adesso non so cosa vedete, se vedete tutto, vedete che parte, che parte dello schermo state vedendo, non state vedendo quella giusta. E purtroppo ho tre schermi qui, quindi diventa complicato per me riuscire a dividere, questo dovrebbe essere quello giusto. Come potete vedere già da lì, dalla copertina del mio intervento è un fenomeno che colpisce o perlomeno unisce in una sorta di mitologia politica, anche se vogliamo, tutta una serie di istituzioni, dalle Nazioni Unite alle corporazioni americane, alla CIA, alla NATO, adesso non si vede qua, ma c'è anche il simbolino della NATO in fondo, che quindi fa parte della cospirazione, ho cercato di evitare di farlo vedere, appunto perché la NATO in parte contribuisce a questo nostro incontro. E purtroppo non c'è la fondazione dei Gasperi, ma è solo questione di tempo, probabilmente prima o poi verrà anche anch'essa inclusa dai nostri cospiratori all'interno di questa cospirazione mondiale. Mattia ha parlato appunto giustamente di fenomeno armato, quasi armato. In realtà, sotto certi versi, perlomeno negli Stati Uniti, è un fenomeno che è letteralmente armato, come potete vedere da questa immagine. Questa immagine è stata tratta dai famosi eventi del 6 gennaio, che oggi ricorderò anche brevemente, che sono stati un po' un punto di svolta nell'ambito dello sviluppo di quello che io considero e chiamo il fenomeno del cospirazionismo militante, che vorrei innanzitutto distinguere dal cospirazionismo o dalle teorie della cospirazione come fenomeno di cultura folco, di cultura popolare, che sono da sempre di fatto parte, perlomeno nel contesto americano, della cultura di questo popolo. E ci sono diverse ragioni per le quali il cospirazionismo, soprattutto quello centrato sulle cospirazioni governative, è sempre stato parte della narrazione americana e in misura minore anche di altre narrazioni nazionali nel contesto europeo o nei contesti asiatici, un paese che vorrei sempre ricordare che ha una vena cospirazionista molto molto forte, molto profonda, è il Giappone. Appunto, sia dal punto di vista mediatico che dal punto di vista scientifico, queste teorie fino a pochi anni fa sono sempre state considerate piuttosto innocue, innocue nella misura in cui comunque non andavano a colpire direttamente la società, non provocavano danni o non provocavano nessun tipo di disordine o problema per l'ordine pubblico e anzi venivano in qualche modo ricondotte alla radice del fenomeno New Age, a questa continua differenziazione, ma continua riduzione della differenziazione tra consumo mediatico e realtà che abbiamo visto tutti negli anni prendere forme differenti e forme diverse. Un'altra slide che vorrei mostrare qui, se riesco, è quella, appunto qua sono alcuni esempi di come le teorie della cospirazione sono entrate in qualche modo nell'immaginario collettivo, sia americano che europeo, o perlomeno mondiale, diciamo. Seree televisive come gli X-Files sono stati forse uno dei punti di svolta, in qualche modo, della rottura del quarto muro, della rottura della differenziazione tra prodotto mediatico, quindi prodotto fantascientifico, quindi prodotto di fantasia e realtà. Questo X-Files c'è un alert generation gap, eh? Sì, forse sì, ma non lo ricordate, ma magari il codice da Vinci qualcuno lo ricorderà di più. Lost è un'altra cosa che qualcuno può ricordare. Millennium probabilmente non se lo ricorderà nessuno, è stato uno spin-off di X-Files più incentrato su mitologie di tipo apocalittico. Ma vorrei ricordare queste trette serie proprio perché hanno rappresentato il primo punto di svolta in cui le persone che usufruivano di questi messaggi che guardavano questi spettacoli televisivi, queste serie televisive, in qualche modo immaginavano che non fosse, se non fosse stato vero, era comunque plausibile che in qualche modo il governo pensasse di tenere nascoste cose come lo sbarco degli alieni, comunicazioni con gli alieni, l'esistenza di società segrete all'interno del governo e o di conoscenze mistiche che in qualche modo potevano rivoluzionare la vita delle persone. L'ultima foto che vedete nell'angolo è una foto tratta da un film che appunto, molti film ne hanno parlato, ma un film che appunto riporta questa teoria secondo la quale lo sbarco sulla Luna di fatto non sarebbe mai avvenuto, ma sarebbe stata una cospirazione del governo all'interno del periodo della Guerra Fredda appunto per tenere nascosti chissà quali altri segreti. Ecco da qui siamo passati, facciamo un salto di circa vent'anni, se non di più, e passiamo al 2016. Il 2016 è un altro punto di svolta assolutamente importante perché dal punto di vista politico vede l'elezione di Donald Trump, candidato off-sider al Partito Repubblicano, contro Hillary Clinton nelle elezioni presidenziali. E dalla parte del cospirazionismo vede appunto questa maturazione di tutti questi movimenti che in qualche modo si facevano portatori di idee relative alla cospirazione governativa, e poi ne parleremo anche in dettaglio quali sono queste idee, coagularsi all'interno di un unico grosso movimento, perlomeno molti di questi gruppi coagularsi all'interno di un grosso movimento, chiamato QAnon, che divenne nel 2016, nel 2015-2016, ma è stato poi anche successivamente, uno dei grossi corpi intermedi di Trump, tra Trump e tra l'amministrazione Trump, e la popolazione americana. Tanto per dare una piccola idea di come questo movimento si è evoluto nel tempo a partire dal 2016, nel 2016, intorno a novembre-dicembre del 2016, quindi proprio all'inizio del periodo di presidenza, all'interno di forum online, quindi all'interno del mondo di social media, si fa viva questa persona, chiamata Q, che si presenta come un alto personaggio dei servizi segreti. Q di fatto si riferisce a una fantomatica clearance queue, ovvero il più alto, secondo i autori della teoria della cospirazione, livello di security clearance del governo americano, assolutamente falsa come cosa, tra l'altro. E quindi lui si presenta come soggetto che dispone di segreti importantissimi relativi all'esistenza di una cabala, con l'ospirazione mondiale di politici, uomini d'affari, personaggi dell'arte, del mondo dello spettacolo, volta di instaurare un nuovo ordine mondiale, siamo sempre lì, centrato appunto sull'idea del fatto che le persone finirebbero per essere schiave di questa cabala. cabala che poi si intrattiene anche in relazioni con alieni, rettiliani o di altro di vario genere, assume droghe che li renderebbero immortali, eccetera, eccetera. Proprio questo ultimo elemento è quello che l'anno successivo, intorno al 2017, si aggancia all'idea che personaggi importanti del mondo politico, del mondo dello spettacolo, fossero deliti al rapimento di bambini e all'estrarre appunto dal corpo di questi bambini tramite sacrifici rituali una sorta di molecola, una pozione chiamata adenochrome che li renderebbe immortali. Questa è la nascita di quello che forse avete sentito essere il Pizzagate. Pizzagate prende il nome dall'idea che i bambini venissero tenuti nascosti, segregati, nei sotterranei delle pizzerie. Non so, per quanto possa essere assurda una cosa del genere, gente ha creduto, molta gente ha creduto a questa idea. Potete vedere poi nella prossima slide. E appunto c'è stata una serie di attacchi a pizzerie, ma non solo a pizzerie, anche ad altri locali, ad altre istituzioni, al fine appunto di salvare questi bambini dalla cospirazione. Qua voglio andare molto veloce tanto per dare un po' un'idea di come il movimento si è evoluto. Nel 2018 fu annunciata e poi cancellata la cosiddetta marcia del grande risveglio, Great Awakening. Il grande risveglio fa parte della mitologia di Quanon in quanto appunto è il punto in cui le persone si renderanno conto dell'esistenza della cospirazione e vi sarà una sorta di guerra tra la Kabbalah e i popoli del mondo. Marcia che però ha ottenuto circa 70.000 iscritti prima di essere cancellata. Ora potete pensare che 70.000 persone non sono granché rispetto alla popolazione americana, questo è vero, ma parliamo di una manifestazione enorme, una manifestazione di massa gigantesca anche in questo contesto. Tra il 2018 e il 2019 aumentano casi di omicidi, rapimenti, attacchi alle proprietà, attacchi a istituzioni pubbliche, tanto che nel 2019, alla fine del 2019, l'FBI, il Federal Bureau of Investigation, la Polizia Federale Americana, decise di designare QAnon come un'organizzazione terroristica interna. Questo è proprio lo spartiacque, perché prima di allora nessuna organizzazione legata al mondo cospiratorio, ricordiamo appunto che venivano prese in giro, venivano normalizzate, venivano considerate interessanti, venivano portate alla ribalta dai media, i telephine, come X-File, o Millennium, in questo caso, viene identificata come un'organizzazione pericolosa, un'organizzazione criminale di stampo terroristico. Questo, tutto ciò evolve intorno dal 2019 al 2020, abbiamo un altro apice di attacchi con le successive elezioni presidenziali, che vedono la vittoria contestata di Joe Biden contro Donald Trump, e nel 2021, 6 gennaio del 2021, questo mondo, questa massa critica, questo movimento, si decide di radunarsi all'esterno del Palazzo del Campidoglio, quindi il Palazzo del Congresso americano, nel giorno in cui le elezioni che vede che videro la vittoria di Biden vengono certificate per contestare l'elezione e questa manifestazione evolve in un vero e proprio attacco al Campidoglio. Ora, molte persone pensano che QAnon sia in qualche modo finito alla fine dopo la sconfitta di Trump, ma ciò non è assolutamente accaduto, si è di fatto evoluto in modi più o meno simili a quelli di una secta religiosa che vede il fallimento della propria profezia, la profezia era la vittoria di Trump e Trump diventare il leader della rivolta contro la Kabbalah, ma ciò non è avvenuto. Abbiamo avuto diversi split all'interno di QAnon con persone che sono andate ancora più estremizzare le componenti mitologiche e millenariste del movimento, parlando del ritorno del secondo Messia, che dovrebbe impugnare la spada di Noah, del patriarca Noah. non sto ad allungarmi in questi dettagli, ma la storia è assolutamente fantascientifica, fino ad arrivare a persone che si riuniscono costantemente, tra l'altro, in diverse manifestazioni, come due settimane fa a Dallas, a una convention di QAnon, che sostengono che in realtà il presidente sia ancora Trump, che Trump il 6 gennaio aveva firmato un atto di insurrezione che ha messo fuori legge la presidenza Biden e che ritornerà nei prossimi mesi grazie all'intervento di JFK, che non sarebbe morto, ma sarebbe, ormai avrebbe 103 a 104 anni, che lo reinstituirebbe, scusate l'italiano ogni tanto mi parte, ma lo rimetterebbe sul seggio presidenziale. Quindi abbiamo tutta una serie di teorie assolutamente balzane e fantascientifiche, alcune delle quali sono ultimamente andate a trovare punti di contatto con il movimento anti-vaxxers qua negli Stati Uniti, che voi in Italia conoscete come un movimento no-vax. Perché questo punto di contatto? Perché la pandemia di COVID-19 viene vista all'interno del movimento di QAnon come un'ulteriore prova dell'esistenza della cospirazione, quindi a tratti con l'idea di un falso virus, a tratti con l'idea di un vero virus che è stato inoculato al fine di ridurre la popolazione o di modificare la popolazione geneticamente tramite l'uso dei vaccini in modo da renderla più controllabile o più aperta alla manipolazione da parte dell'elite. Qui ritrovate alcuni dei temi di cui si è stato parlato anche in Italia, di cui si è parlato anche in Italia, come il 5G, come il grafene all'interno dei vaccini, come la tracciabilità, i microchip, tutti questi temi che sono all'interno del movimento Novax, di fatto, arrivano dal del conspirazionismo militante di di Quanon e Sibile, che è presente in Europa anche dal intorno al 2016 e 2017, poi vedremo alcune alcune cifre di questo di questo movimento. Ecco qua, avevo citato prima il Pizzagate, il adenochrome, foto di bambini rapiti, foto di alcuni presunti terroristi. Questa è una foto che è particolarmente interessante dal mio punto di vista. Questa è la persona che ha attaccato la pizzeria Comet per salvare i bambini dalla schiavitù di Hillary Clinton. Questa è un collage fatto con appunto una fila di adenochrome e delle foto che proverebbero l'esistenza di questa cospirazione e il ruolo fondamentale di Trump nel ridurre la cospirazione. Potete vedere Celine Dion, potete vedere le foto di lei prima della vittoria di Trump e dopo la vittoria di Trump e quindi la vittoria di Trump avrebbe significato in qualche modo una riduzione dell'approvvigionamento di qua. Ora, vi tralascio tutti quanti i dettagli ma potrei parlare di queste cose per ore perché ritornano dei temi che sono assolutamente bizzarri e affascinanti. Ecco, com'è che opera Qua Non? Qua Non appunto si distingue dalle cospirazioni tradizionali, prima di tutto per la sua militanza, secondo poi per il modo in cui funziona. Ora, nel periodo precedente di cui stavamo parlando, periodo in cui le teorie della cospirazione erano parte della, diciamo, del background di cultura popolare, queste teorie erano teorie, diciamo, a scatola chiusa, venivano presentate come dai loro, dai loro ideatori, dei loro creatori come una sorta di spiegazione razionale o irrazionale che dir si voglia, di momenti di crisi o comunque della situazione dello status politico e sociale del paese, ma non erano modificabili dai propri fruttori. Con Qua Non si inserisce invece il principio secondo il quale i fruttori della teoria della cospirazione non solo non devono accettarla in tutto e per tutto al di là di poi quello che in realtà sono i punti chiave della cospirazione stessa ma possono in qualche modo modificarla, contribuire ad essa ed adattarla ai propri contesti e anche alle proprie necessità. Questo ha permesso un salto di qualità notevole dal punto di vista qualità e quantità notevole dal punto di vista del reclutamento di persone all'interno della cospirazione perché ha fatto sì che la cospirazione venisse in qualche modo interpretata come una sorta di gioco come una sorta di momento di attivismo nel quale il cospiratore stesso il fruttore della cospirazione non era solo fruttore ma era produttore di contenuti era legittimatore di contenuti e si sentiva in qualche modo e si sente in qualche modo di essere una sorta di ricercatore quindi un ricercatore attivista che ricerca la cospirazione e combatte la cospirazione tra l'altro trovo che questo sia un concetto molto interessante da un punto di vista sociologico perché ci sono molte ricerche che suggeriscono che viviamo in un'età in cui l'attivismo digitale è diventato una cosa per cui chiunque può fare può trovare la sua battaglia da fare trovare delle persone like-minded che sono disponibili a fare la stessa battaglia e in realtà questo contribuisce a creare una polarizzazione politica perché poi si riduce tutto in silos lo sto dicendo molto all'inglese però penso che si capisca e poi mi sembra che ci sia anche un elemento come dire della do it yourself che poi da un punto di vista di engagement ti fa andare alle stelle è inevitabile esattamente la componente di EYI quella che hai citato tu adesso il fai da te detto in italiano è la componente più affascinante di questi di questi movimenti perché in qualche modo tutti i colleghi non è che devi essere appunto prima di tutto da un punto di vista del creatore e del contenuto io non ti devo convincere di niente io non devo sforzarmi non devo mettermi a investire tempo risorse nel tentativo di farti abbracciare completamente la mia ideologia e costruisco la mia ideologia in maniera molto semplice sulla base di due o tre cose che funzionano ad attirare l'attenzione delle persone e poi lascio queste persone fare quello che vogliono quindi di fatto queste persone si autopolarizzano si autoradicalizzano si autoconvincono del fatto che quello che gli sto dicendo è vero e che comunque devono legarsi a me in qualche modo e questo funziona la cosa interessante qua è uno dei primi fattori di rischio funziona sia dal punto di vista popolare quindi creando queste masse di persone che seguono in qualche modo magari anche inconsapevolmente questa è una cosa anche molto importante da dire queste teorie ecospiratorie e diventano militanti diventano radicalizzate queste teorie ecospiratorie dall'altra anche figure istituzionali come politici che alle volte nei loro tweet vedendo che il messaggio funziona riprendono gli stessi elementi in Italia per esempio alcuni l'hanno fatto ma all'inizio non si era fatto il collegamento tra il pizzagate e i bambini di Bibiano ma tutta la tutta la retorica che è stata costruita da un punto di vista politico anche e da un punto di vista massmediatico sui fatti di Bibiano ha preso pari pari gli stessi temi che erano stati presi in America e gli stessi meme anche le stesse le stesse immagini la stessa narrazione gli stessi slogan poi adattati ovviamente tradotti nel contesto italiano che erano stati impiegati all'interno di quest'idea dell'adenochrome tratto dai bambini quindi il tema della tortura il tema del rapimento il tema della pedofilia il tema dei politici coinvolti fino ad arrivare proprio alle stesse immagini che sono state utilizzate a Bibiano e ci sono stati periodi in cui immagini tirate fuori come bambini di Bibiano in realtà una foto di bambini americani ti interrompo un'altra volta un secondo per aggiungere un elemento che non sono solo poi i contenuti ma sono anche le modalità che sono simili cioè nel senso quello che poi si nota guardando dentro questa fenomenologia anzi questo universo di fenomenologia che sono tantissimi poi come si dirà ma tu lo sai meglio di meandre però c'è anche un modus operandi che diventa lo stesso nel modo in cui si rilanciano questo genere di cose nel modo in cui si utilizzano i media mainstream per rilanciare al giusto momento determinate cose e paradossalmente è un filo rosso che unisce non soltanto il mondo cospirazionista e quindi quello che è quello che sono gli attori non statali ma anche quelli che sono gli attori statali perché poi noi in questo ecosistema impazzito abbiamo anche l'intervento di attori stranieri che approfittano di queste dinamiche per influenzare l'opinione pubblica anche soltanto per creare ulteriore divisione a livello sociale e quindi alimentare instabilità assolutamente da noi c'è un certo effetto in america però ha avuto un determinato effetto nel 2016 ce l'ho ancora oggi ma è un qualcosa che io per esempio ora sto osservando in sudan assolutamente con dinamiche in tutti i paesi contenuti diversi ma le dinamiche e il modus operandi è lo stesso i contenuti possono essere diversi alle volte sono diversi perché vengono adattati alle volte sono diversi perché appunto i contenuti in un paese magari non hanno lo stesso successo degli altri ma il meccanismo è sempre quello io poi parlerò magari ho qualche slide qui avanti relativamente alcuni esempi di come certi attori statali hanno navigato utilizzato questi stessi questi stessi processi al fine come dicevi tu di destabilizzare dei paesi soprattutto in periodi elettorali perché poi se noi andiamo a vedere il QAnon QAnon è solo un esempio appunto questi questi sistemi questi meccanismi si globalizzano diventano diventano diffusi abbastanza diffusi universalmente se noi pensiamo ad esempio che in Europa nel 2019 dal 2019 al 2020 abbiamo avuto una crescita quasi esponenziale dei follower di teorie cospiratorie e guardiamo immagini come questa dove questa qui viene dalla Germania ad esempio le prime due cose che si vede è l'utilizzo dello stesso slogan Make Great Again che è lo slogan del presidente del presidente Trump e una bandiera dalla Russia che è piazzata lì che è piazzata lì in mezzo quindi tutti questi tutti questi gruppi abbiamo anche una Q di QAnon qua in basso abbiamo simbologie simbologie che stanno diventando simbologie meccanismi processi contenuti metodologie che stanno diventando universali e che sono tipiche di questo di questo fenomeno di di cospirazionismo militante che sempre di più riesce a penetrare anche all'interno come dicevi tu Mattia dei media mainstream per una sorta di anche di logica di mercato che porta i media mainstream a rimbalzare e a propagare queste stesse notizie perché fanno audience e anche comunque dei partiti dei partiti politici alcuni partiti politici mainstream che spesso anche inconsciamente rimpallano questi stessi contenuti o usano gli stessi meccanismi a fine di ottenere consenso politico perché poi esiste una domanda si è creata una domanda di questi contenuti che molti attori istituzionali vogliono andare a soddisfare per interesse proprio tu vedi l'esempio nel caso della slide successiva questi sono alcune immagini tratte dall'Italia e dagli Stati Uniti vedi che gli stili sono più o meno gli stessi le immagini utilizzate sono più o meno le stesse da un contesto all'altro queste sono immagini che arrivano dal Movimento Novax di cui voi avete sicuramente parlato noi non siamo cavi e quindi l'idea che sia un esperimento di laboratorio Green Pass con la SS delle SS quindi l'idea che è Green Pass è un meccanismo delicatissimo ma tra l'altro questa cosa ha fatto il botto cioè ha sfondato completamente perché io pensavo l'ho vista e ho detto vabbè rimarrà una cosa fringe e invece no io ho sentito un deputato della Repubblica dire questa cosa in televisione cioè dire il primo che ha fatto un documento che serviva per andare a fare la spesa per comprare le cose per entrare nei locali per entrare nei teatri è stato Adolf Hitler io ho detto no vabbè ragazzi e questo chiaramente attraverso la televisione e in un certo senso poi questo legittima e quindi fa da cassa da risonanza e la cosa di parte dice se lo dice lui perché non dobbiamo dirlo noi esatto infatti c'è quel processo di legittimazione da parte di istituzioni che siano in media oppure siano addirittura le istituzioni o figure rappresentanti di tipo politico ho sentito quella c'è stato il parallelo tra i vaccini tra la Pfizer e Mengele c'è chi ha cercato di ricostruire l'origine della Pfizer perché è tedesca e allora derivano dagli esperimenti fatti nei campi di concentramento fino ad arrivare alla marcia dei nostri iposenzienti vestiti da internati dei campi di concentramento pochi giorni fa questi sono temi che si ripetono costantemente che hanno un enorme successo e l'enorme successo è dovuto principalmente dal mio punto di vista da come vedo dal modo in cui dal modo in cui questi 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 gruppi questi movimenti hanno sfruttato abilmente i social media i new media e questo tipo di produzione di contenuti di tipo fai da te in cui le persone si sentono molto più coinvolte perché non devono semplicemente sentire una storia e decidere se gli va o no ma possono contribuire alla storia stessa io ho un'altra slide qui in cui poi questo questo processo è un po' ricostruito questo è preso da QAnon quindi abbiamo il modo in cui QAnon lo fa e anche le terminologie che usa ma questo è il metodo che viene utilizzato adesso in qualunque tipo di gruppo dagli antivaxer no-vaxer agli anti-green pass ai cospirazionisti che parlano di pedofilia fino a quelli che parlano di alieni o che parlano di civiltà o terrapiattisti o tutto questo genere questo mondo di gruppi quindi vai poche informazioni le strutture come se fosse una ricerca una sorta di caccia al tesoro le persone le prendono aggiungono contenuti li rimandano li rimandano in rete questi contenuti vengono riselezionati dai produttori del messaggio che li riutilizza per informare i nuovi indizi che verranno poi successivamente mandati di nuovo nel nel circuito nel circuito comunicativo quindi è una sorta di scatola chiusa la quale una volta entrati è estremamente difficile uscire perché ristruttura completamente la tua visione della realtà qua negli Stati Uniti adesso stanno nascendo sempre più gruppi di supporto sull'idea degli alcolisti anonimi o dei gruppi che appunto cercano di aiutare persone che hanno un addiction focalizzati su recuperare le persone che si sono trovate all'interno di gruppi cospirazionisti militari ed è un caso assolutamente unico è la prima volta nella storia che si si pone si crea una situazione del genere per teorie di tipo cospiratorio insomma non si era mai sentito parlare in passato di gruppi di gruppi di supporto a chi credeva nei rapimenti alieni adesso esistono ma soprattutto se mi posso permettere poi c'è anche un altro elemento che è quello dell'attivazione cioè del passaggio da quello che nello studio degli estremismi e dei terrorismi chiamiamo estremismo e basta e estremismo violento sì esatto e no lascio a te no 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 esiste esiste questo passaggio allora questo passaggio poi ne possiamo parlare anche adesso brevemente di questo passaggio questo passaggio avviene per due ragioni avviene fondamentalmente quando una persona entra in questo in questo mondo il livello di frustrazione che già è un livello abbastanza alto di base nei confronti per esempio di fenomeni di espulsione al mercato del lavoro o di cambiamenti sociali o di individualizzazione quindi tutti questi questi problemi tra il sociologico e lo psicologico per dire per dire anche molto banalmente vengono incrementati dal dalla fruizione dei contenuti dei gruppi di cospirazione isomilitante quindi da una parte c'è si crea questa massa critica e gli individui singolarmente o tramite gruppi decidono di attivarsi quindi decidono di diventare di diventare violenti o comunque di partecipare attivamente anche nella vita reale a quest'idea del combattimento tra del grande risveglio e quindi della battaglia tra le masse schiavizzate e l'elite dall'altra c'è l'intervento che tu menzionavi all'inizio di questo di questo di questo incontro l'intervento di organizzazioni già militanti e già violente che vedono in questo mondo un possibile territorio di reclutamento e una cassa di risonanza per cui quando tu hai delle manifestazioni in Italia avete avuto una manifestazione come quella di Roma dei Novax che ha avuto poi un risvolto violento il risvolto violento è stato provocato da 4 o 5 agitatori di gruppi relativamente piccoli all'interno di un contesto nazionale o anche internazionale che però sfruttando meccanismi di quelli che noi conosciamo essere meccanismi di stochastic violence ad esempio sono riusciti ad attivare altri all'interno delle manifestazioni a imbracciare metodi di tipo violento per raggiungere i loro obiettivi e questo avviene sia all'estrema destra che all'estrema sinistra senti ti devo chiedere però di fare un passaggio sulla stochastic violence perché uno perché io sono qui per darti fastidio e rendere e metterti i bastoni fra le ruole però spiegaci in a nutshell detta anche molto banalmente noi siamo sempre abituati a considerare la violenza all'interno di un sistema di decisione all'interno di un meccanismo di decisione deliberata dunque se io voglio diventare violento voglio diventare violento lo faccio come lone wolf quindi singolarmente o lo faccio all'interno di un gruppo quindi molto banalmente come si diceva il magnotta mi scrive ai terroristi vado all'interno di un gruppo vengo radicalizzato vengo passo una sorta di training eccetera eccetera ho le risorse bla 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 faccio quello che devo fare questi sono i due meccanismi classici i due momenti classici di violenza la violenza stocastica ecco dunque da un punto di vista dell'organizzazione c'è un investimento all'interno del reclutamento in campagne reclutamento e formazione o nel supporto ai cosiddetti lone wolf nell'idea della stocastic violence l'organizzazione si limita semplicemente a produrre dei contenuti o comunque ad attivare specifici trigger in modo da aumentare la probabilità questa è la dimensione stocastica aumentare la probabilità che persone assolutamente non violente all'interno di contesti di fatto non violenti finiscano per engage in violence finiscano per produrre violenza questo è tipico degli agitatori il meccanismo dell'agitatore all'interno di una manifestazione l'agitatore di per sé non fa nulla ma crea le condizioni o aumenta la probabilità per la manifestazione di diventare una manifestazione violenta come è successo al G8 negli anni precedenti come è successo appunto a Roma o anche a Torino se non sbaglio ti dirò di più come è successo con la decapitazione di Samuel Padin in Francia come è successo con l'attentato a Charlie Hebdo abbiamo lì l'elemento di trigger l'elemento stocastico viene dalla reazione molto violenta dei paesi di origine o dei paesi di origine di fede musulmana o delle comunità di origine di fede musulmana con un'interpretazione dell'islam particolarmente come dire ortodossa che triggerano una reazione loro si stanno lamentando talmente tanto di quello che è successo io sono qui devo fare qualcosa esatto ma anche anche più anche più indietro nel passato Carlo Nono i riot di Parigi la presunta notizia di riot protestanti a Parigi che ha portato poi al massacro di San Bartolomeo quindi nella storia esistono tantissimi esempi di violenza stocastica che viene sempre più utilizzata da movimenti che non hanno a disposizione poi una grossa un grosso bacino di attivisti che possono direttamente controllare quindi che possono usare nell'ambito ovviamente della symmetric warfare ma che possono usare in qualche modo come come forze come forze militanti assolutamente lo stato islamico fa lo stesso in questo momento con la propaganda direi che quello che che poi aggrava il tutto è la dimensione del web per cui cioè in realtà è un po' e questo penso sia il problema di fondo cioè la connettività che noi a un certo punto degli anni 90 e dei 2000 e intendo connettività dovuta all'internet ma anche ai processi di avvicinamento da un punto di vista di commercio e di trade noi pensavamo che si sarebbe risolta in un mondo più democratico ma in realtà ora dopo 20 anni siamo resi conto che invece ha creato un sistema di se lo vogliamo dire di invidie anche che in realtà no ci allontana molto e quindi poi è proprio il web è proprio questo essere tutti connessi per cui tutti che moltiplica i trigger sotto mille punti di vista non trovo esiste sì no assolutamente poi la teoria dello scapegoating la teoria di Giroud sull'idea comunque che l'aumento delle connessioni di fatto l'attualizzo io adesso con quello che hai detto l'aumento delle connessioni l'aumento delle informazioni crei le condizioni per un aumento di questi processi di stigmatizzazione dovuti a sentimenti di invidia e questo aumenta il livello di tensione di tensione all'interno della società tu hai citato una cosa sembra che tu abbia guardato io non te l'ho mandato il powerpoint prima ma mi stai dando dei grandi input per andare da slide in slide è fantastico la cosa che aggiungerei è che non solo sono aumentate le connessioni quindi creando tutti e due rettiliani esatto ma è aumentato anche il livello di inquinamento informazionale quindi l'aumentare delle informazioni e comunque dei dati che si trovano in rete non ha corrisposto con un aumento della consapevolezza comunque un aumento della conoscenza relativa a tutta una serie di elementi tutta una serie di fattori c'è una domanda poi ne parlo ne parlo brevemente la risposta breve è no purtroppo questo è il più grosso problema che non esiste un profilo e questo è quello che spaventa di più gli analisti perché quando parliamo di terrorismo tradizionale di reclutamento terrorismo radicalizzazione tradizionale abbiamo ormai identificato quali possono essere certi elementi che ci permettono di monitorare il sviluppo del radicalismo anche lì molto difficile però senz'altro più difficile di una cosa così che prende dal ragazzino dell'elementario delle superiori col telefonino fino al capitano di industria o fino al politico sicuramente c'è un divario generazionale c'è un elemento generazionale questo i dati lo dicono però quello perché limitatamente all'accesso alle informazioni quindi quel divario generazionale è un divario che dipende dai meccanismi di accesso non è un divario che si basa su questioni di tipo generazionale quindi quello che voglio dire è che tu hai identificato una coorte che va dai 15 ai 30 anni che è suscettibile all'input radicalizzante delle teorie della cospirazione dai 35 anni in su non ce l'hai così forte non è che quando questi crescono poi rientrano si riduce l'intensità della radicalizzazione se la portano dietro perché quello che si portano dietro è l'accesso a informazioni limitatamente ovviamente al fatto che i mezzi di informazione soprattutto nei social media cambiano e quindi quelli vecchi come noi usano ancora facebook quelli più giovani non lo usano eccetera eccetera però diciamo che questi contenuti si trasmettono un po' su tutti i social media quindi dipende molto dal livello di accesso all'informazione mediatizzata e quindi quel divario generazionale per lo meno nella mia opinione è una cosa che vedremo scomparire nei prossimi nei prossimi anni poi non so cosa ne pensi tu Mattia ma da quello che vedo nei dati trend non è un divario che è destinato a durare secondo me dipende dalla issue nel senso che se parliamo di Novax c'è chiaramente una maggioranza di generazione baby boomer lì dentro e da questo non si scappa per lo meno nei paesi occidentali invece per tutto il resto per la teoria cospirazionista è anche soprattutto una questione di accesso cioè nel senso ci sono alcune generazioni che su reddit non ci vanno semplicemente però occhio perché poi gli arriva quando quella roba arriva su youtube o sul mainstream o sull'operatore radio americano che è straseguito perché c'è un podcast dove dice un sacco di stupidaggini però è straseguito eccetera eccetera e loro lo ascoltano perché è più a modo all'orario però sì sono d'accordo con te infatti viene viene comunque ridefinito per coprire un po' un po' tutte le un po' tutte le cose sul Novax perlomeno qua negli Stati Uniti in realtà l'antivax baby boomer sì ma anche generazione X voglio fare una piccola digressione adesso noi parliamo del problema relativo agli anti-vaxxer sul covid quindi il problema dovuto al raggiungimento immunità di grege tutti quei discorsi per la scarsità di vaccinazione covid-19 quello che però sto cominciando a leggere all'interno di comunità di epidemiologi o di medici che si occupano di vaccinazione è che il problema è destinato a ribaltarsi su altre vaccinazioni perché sono sempre di più le persone genitori anche nella fascia generazionale X-Gen fino ad arrivare anche a alcuni elementi del millennial che rifiutano le vaccinazioni in toto quindi che si sta delineando una situazione nella quale potranno esistere sempre più verificarsi sempre più degli outbreak di chicken pox o measles quindi malattie che si credevano completamente quasi debellate dalle vaccinazioni obbligatorie comunque questo qui ha una piccola digressione sul movimento anti-vax stavo parlando di inquinamento informativo quindi sovraccarico di informazioni che è abbastanza difficile da quantificare ma come dicevo prima è estremamente fruttuoso ed estremamente buon mercato alcuni degli effetti qui e voi potrei passare a visto che il tempo sta diventando sempre sempre meno passiamo un attimino al concetto di informazione tu hai citato disinformazione e misinformazione esiste una distinzione non so se ne avete parlato in il corso del progetto di tutto l'anno sì nell'ultimo nell'ultimo puntamento no però quindi se ne avete parlato già brevemente esiste una grossa differenza riguardo alla produzione del contenuto quindi come misinformazione di fatto quello che tendiamo a intendere è che i contenuti non vengono prodotti di per sé per creare danni o o diciamo per ulterior motive oppure per scopi per scopi secondi scopi secondi all nell'agenda nell'agenda politica alle volte vengono creati diffusi allo scopo deliberato di aiutare qualcuno promuovere una causa quindi lo stesso movimento anti-vax in molti dei casi non è un movimento di disinformazione è un movimento di misinformazione così come per esempio i terrapiattisti così come per esempio alcune anche delle degli dei contenuti che vengono prodotti e trasmessi da certi utenti legati al movimento di qua non in certi casi anche per esempio da da politici ora volutamente non cito nessun politico italiano in questi in questi miei in questi miei esempi una breve notizia recente dal dal mondo americano potrete magari non conoscere i nomi dei politici ma tanto per fare per fare un esempio di cosa può essere della misinformazione questo è un grafico che paragona che compara incidenti antisemiti qua siamo nell'ambito delle violenze del hate violence hate crime motivazione religiosa o raziale l'ottanta per cento partire dal duemila dal 1995 fino ad arrivare al duemiladiciannove quindi è abbastanza recente questi sono i dati relativi sia in termini assoluti che di trend alla comparazione tra incidenti di tipo antisemita e incidenti di tipo islamofobico quindi attacchi ebrei o attacchi a musulmani e come potete vedere i numeri sono tendenzialmente diversi nel senso che nel 95 l'ottanta per cento degli attacchi giustificati dal punto di vista religioso era rivolto alle comunità contro le comunità ebraiche e poco più del 3 per cento invece nei confronti dell'immigrazione musulmana questi dati sono dati che sono pesati per la popolazione relativa quindi non sono dati assoluti immagino già qualcuno dice sì ma ci sono più di questi che più di quegli altri questi dati sono dati che tengono in considerazione anche la popolazione ovviamente c'è un picco intorno al 2000 2001 qua è sfasato leggermente scusate nel grafico questo è il picco del 2001 il picco del 2001 successivo ovviamente agli eventi esatto attacchi alle torri gemelle che hanno visto un aumento se ne parlò tantissimo poi esatta esattamente poi una linea che tutto sommato diventa piatta fino ad arrivare al 2015 con un altro picco per poi di fatto scendere negli ultimi anni del 2019 2015 peraltro dovrebbe essere l'anno non è l'anno nel Batacland esatto è esattamente l'anno nel Batacland per quello che vedi questi picchi mentre qua abbiamo un tendenziale trend in aumento qua abbiamo un tendenziale trend in ribasso nonostante questo uno potrebbe pensare beh ma allora si deve intervenire su una cosa magari non intervenire tanto in un'altra invece notizia dei giorni dei giorni scorsi pochi giorni Ilano Mar rappresentante democratica dell'ala socialista dell'ala di sinistra del partito democratico sta presentando o ha presentato un progetto di legge per l'istituzione di una commissione speciale per la lotta ط all'islamofobia da estendere poi con la creazione di un inviato speciale delle Nazioni Unite per monitorare l'islamofobia nel mondo considerando ritenendo e giustificando questo intervento sulla base del fatto che lei dice gli attacchi islamofobi sono la prima ragione di attacco per hate crime negli Stati Uniti e in altri paesi quindi noi abbiamo una slide che dice esattamente l'opposto abbiamo questa slide che dice questo il mio punto non è negare l'una o l'altra cosa ma semplicemente dire che spesso la misinformazione viene prodotta non per creare danni Amaro ovviamente non vuole creare nessun tipo di danno non vuole attaccare nessuno ma per proteggere o per diciamo per promuovere gli interessi di un determinato gruppo di individui o comunque gli interessi della società quindi la misinformazione per fare attivismo o per fare attivismo esatto o anche per dal punto di vista politico quindi esistono degli elementi di misinformazione che non hanno nulla a che fare con l'obiettivo deliberato di creare delle situazioni di violenza o creare delle situazioni di conflitto nonostante ovviamente sappiamo che la misinformazione poi porta in qualche modo alla polarizzazione per cui ad esempio successivamente a questa proposta di legge Ilano Mar è stata attaccata definendola antisemita da più parti del stesso partito o di altri partiti Guarda questo è interessante anche perché poi alla fine allora siccome ognuno combatte la sua battaglia tutto poi diventa estremamente polarizzante cioè a me nessuno mi toglie dalla testa che fin quando non è partito il movimento Me Too giustissimo e quindi con tutto quello che ha scatenato da un punto di vista della questione della gender equality e dei diritti delle donne assolutamente un movimento giustissimo che nasceva da istanze vere e assolutamente condivisibili però quello è stato il momento in cui poi una parte di quel movimento femminista si è estremizzato ed è lì che è nato tutto il movimento incel perché noi prima di questo il movimento incel non c'era e se c'era era una cosa infinitivamente infiniti infinitivamente fringe il movimento incel è sempre sempre in qualche modo non come movimento ma diciamo la realtà incel è sempre vistita perlomeno negli ultimi 20 30 anni che si parla si vedono studi di piccole minoranze piccoli casi ma sicuramente per per legge dell'azione reazione la nascita di un movimento ha dato lo stimolo all'altra all'altra parte di di crescere e di di strutturarsi in maniera più più consistente e anche oltre oltre quello che parliamo di movimento incel anche di cominciare a connettersi con altri movimenti estremisti di questa galassia diciamo destrorsa tradizionalista adesso il caso di Savona di qualche mese fa di quel ragazzo che è stato arrestato allora lui era un elemento chiave diciamo così del movimento incel europeo incel italiano è stato arrestato in parte per quello in parte perché stava cercando di creare un capitolo della atomwaffen division che è un gruppo neonazista americano legato a Charles Manson Helter Skelter rituali satanici è considerato uno degli uno dei movimenti del nazi satanismo del satanismo nazista neonazista quale negli Stati Uniti appunto lui stava cercando di creare un capitolo di questo movimento in Italia uno dei primi capitoli in Europa e lui era arrivato alla atomwaffen division tramite contatti e connessioni che aveva all'interno il movimento incel e dei movimenti di reazione omofobi di reazione alla gender theory eccetera eccetera che ancora poi si agganciano ai movimenti tradizionalisti cattolici quindi abbiamo tutta questa corrente vigano anti anti-bergogliana che supportano candidati politici di destra che comunque tipo Merger Green Taylor Green che sono agganciati anche a QAnon o ad altri movimenti tutta questa galassia qua si struttura tramite mezzi di comunicazione si propaga utilizzando le stesse strategie e riferendosi poi allo stesso pool di individui e soggetti tra l'altro poi questa cosa ha una storia molto lunga questo gioco della reazione della dell'azione della reazione la storia è molto lunga in America basti pensare che il QQQQ è un prodotto della sconfitta della guerra di secessione americana da parte del sud perché prima non esisteva nessuna forma di razzismo di quel genere certo esisteva un razzismo istituzionalizzato all'interno poi della struttura della schiavitù e del mancato assolutamente però il QQQQ viene fuori nel momento in cui si crea una la battaglia si è persa e quindi diventa una forma di reazione a quello che è il dettame statale che riprende che riprende la forma di reazione tra l'altro piace sottolinearlo tutte le volte che nasce all'interno del partito democratico negli stati del sud quindi all'interno del mondo democratico negli stati del sud che si rifà a quello che dici tu al tentativo di ricostruire una certa una certa certe strutture sociali e all'anticattolicesimo perché perché ad esempio ad esempio una cosa che faccio tutte queste digressioni mi scuso poi ritorno ritorno al tema principale ma una cosa molto interessante uno dei grossi dibattiti che si è fatto in questi ultimi tempi è il dibattito attorno alle figure storiche quindi il movimento BLM movimento di indigeno americano o un movimento progressista quello che viene definito che sia stata quindi dominata e civilizzata da europei poi c'è tutta la narrazione di Zan su fatto che Colombo fosse in qualche modo avesse contribuito al massacro dei nativi americani storia estremamente lunga ma tutti quei temi che sono stati presi oggi dal diciamo momento woke all'interno del dibattito politico americano sono gli stessi identici temi e la stessa identica narrazione che era stata fatta dal Ku Klux Klan al momento dell'instaurazione della festività per Colombo che è successiva al massacro di New Orleans di questi stessi temi che erano stati presi creati da Ku Klux Klan quindi la sinistra woke americana del BLM del movimento indigeno ha ripreso e rivampato dei temi del di un movimento razzista sudista americano questo questo è geniale e tra l'altro è uno dei cortocircuiti di cui assistiamo quasi giornalmente perché tu prima facevi vedere il grafico sugli hate crimes tra l'altro ci sarebbe da fare una precisazione abbiamo un problema enorme in termini di raccolta di dati perché in America assolutamente alcune robe sono tanta roba cade sotto l'ombrello degli hate crime in Italia il sistema in Europa il sistema è completamente diverso a seconda dei paesi ora c'è uno sforzo da parte della Germania per per introdurre questa categoria dei gay further che dovrebbe aiutarci a categorizzare anche il tipo di incidente ma insomma è una cosa molto complessa però facevi vedere prima gli attacchi contro la contro le persone di Roma sì sì islamofobia e antisemittismo e quello è un'altra cosa che tocca il cerchio del panorama politico si chiude completamente in questo momento perché noi abbiamo gruppi di estrema destra assolutamente antisemiti e gruppi di estrema sinistra assolutamente antisemiti e dall'estrema sinistra e dall'estrema destra in realtà questa cosa si sta allargando verso il centro è uno dei paesi europei dove lo vediamo tantissimo senza dare troppi onori a Holbeck ma è la Francia sì no 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 assolutamente assolutamente vedi questi spostamenti questo continuo gioco e questa continua ambiguità che poi avviene all'interno dei meccanismi di misinformazione e disinformazione di cui stiamo parlando oggi in cui gli stessi movimenti sono contemporaneamente islamofobi e islamofoli e islamofili e antisemiti ma pro-isdraele quindi hai cortocircuiti su cortocircuiti che di fatto poi vengono normalizzati all'interno del cospirazionismo militante proprio da questo fatto che tu puoi scegliere quello che vuoi perché non c'è più non è più non esiste più una dialettica rigida in cui tu devi accettare un blocco contro l'altro tu puoi prendere mischiare elementi e contenuti non solo diciamo è un è un è un è un è un radicalismo alla carte non solo all'interno di quello che è il tuo percorso di vita quindi strutturandoti la tua la tua ideologia ma anche anche a seconda di diversi momenti puoi scrivere un meme contro Soros e il giorno dopo ne scrivi un altro in favore di Israele contro i palestinesi ed è ed è una cosa assolutamente normale o meglio normalizzata all'interno del cospirazionismo o grazie al cospirazionismo se vogliamo ecco io non so ancora quanto tempo ho in realtà siamo dovremmo dovremmo andare in chiusura però non so quanto avevi ancora avevo parecchio ancora ma io posso mandare tutte queste slide e poi le potete leggere io voglio parlare brevemente di disinformazione quindi l'utilizzo proprio per deliberatamente per creare polarizzazione all'interno all'interno della società di contenuti che sono radicalmente radicalmente che sono contenuti che sono falsi comunque contenuti assunti o conclusioni che sono volutamente volutamente errone volutamente false quindi parliamo di quelle che sono le fake news e poi alcune cose brevemente come l'effetto megafono cose di cui probabilmente avete già parlato anche quindi non so quanto possa essere utile per me spendere molto tempo in queste guarda volevo fare un passaggio per vedere se c'erano delle domande vai vai io intanto comincio faccio qualche slide si parlava di Russia intanto non so se poi abbiamo risposto in tutto e per tutto a Giovanni quando ci chiedeva è possibile definire quali tipi di persone magari il proprio background per la propria propensione si dirigono verso il complottismo ed è rilevante poterlo definire prima di lasciarti la parola su questo io direi che sarebbe molto rilevante poterlo definire purtroppo non come dire la capacità di individuare la nostra capacità di individuare background e propensioni è per il momento limitata e sarebbe peraltro sarebbe molto rassicurante poter dire le persone che fanno che hanno queste caratteristiche finiscono qui le persone che hanno pochi studi vanno verso il complottismo ma purtroppo non lo possiamo fare ma d'altronde questa è una cosa che abbiamo visto dalla notte dei tempi noi avevamo i medici ricchissimi americani che partivano per andare a combattere con lo stato islamico in Siria quindi no guarda no per una semplice questione torno a alcune delle cose che volevo dire nelle mie slide quando si parlava dei differenti tipi di disinfo quindi la distinzione tra manipolazione del contesto manipolazione del contenuto manipolazione delle interpretazioni o l'inclusione di associazioni fuorvianti e tutte queste tecniche quello che fanno e creano le condizioni per le quali il messaggio viene diventa sartoriale in qualche modo quindi viene customizzato sul sul ricevente sull'utente che lo riceve devo fare un esempio il no vax ora si parla genericamente di persone che rifiutano i vaccini che sono antivaccini ok benissimo queste persone quando noi le guardiamo come un movimento raccolgono persone giovani persone baby boomer o anziani raccolgono persone con basso ceto sociale con alto ceto sociale persone con basso basso educazione persone con alta educazione e quindi da un punto di vista del monitoraggio è impossibile capire chi tenere d'occhio molto banalmente molto brutalmente poi se andiamo a vedere all'interno perché tu hai la persona con basso titolo di studio e la persona con alto titolo di studio perché rifiutano entrambi il vaccino ma su basi diverse perché la persona con basso titolo di studio magari rifiuta il vaccino perché crede negli alieni nella cospirazione aliena la persona con alto titolo di studio medio titolo di studio rifiuta il vaccino perché ha letto il paper scientifico che dice che eccetera eccetera quindi la spiegazione che porta allo stesso risultato è diversa ci sono varie strade per arrivare per arrivare ad abbracciare gli elementi chiave i contenuti della cospirazione io ho parlato con gente che si metteva a ridere di fronte all'adenocrome però giustificava la pedofilia e giustificava la questione del rapimento dei bambini sulla base semplicemente semplicemente tra virgolette di tendenze sessuali o di rituali massonici o di di tratta degli organi o chi più ne ha più ne metta quindi l'interpretazione che viene data è così flessibile che permette a chiunque di poter essere attratto da questo movimento perlomeno entro certi entro certi parametri ovviamente e quindi risulta molto difficile ad esempio io non voglio non voglio fare spero che questa cosa qua venga registrata che non mi arrivi una denuncia per questo ma è un esempio il premio 9 per la fisica che parla di di economia dicendo grosse castronerie o parla di nucleare di politica nucleare dicendo enormi castronerie di fatto se andiamo a vedere quello che dice dice le stesse cose che tanti teorici del cospirazionismo dicono o tante persone che credono al cospirazionismo dicono relativamente all'energia nucleare agli incidenti nucleari ai siti nucleari al trattamento delle scorie tutte queste queste fantasie vengono prese anche da un premio Nobel infatti voglio dire c'è anche un problema di educazione cioè nel senso probabilmente l'intenzione non è cattiva però bisognerebbe spiegare a quella persona che oggi conversazioni che vengono da lui cioè affermazioni che vengono da lui su quel tema lì hanno un impatto esatto che è terribilmente nocivo il problema è che questo tipo di di formazione di educazione non c'è e quindi tante volte tu dici ma guarda questo che c'è una posizione con che affermazione se n'è uscita questa è la causa dei problemi anni fa anni fa faccio il nome di un politico ma non per per accusare il politico di niente sia chiaro anni fa Salvini durante la manifestazione rilasciò un'intervista non un'intervista una persona vicino a lui un telefonino gli chiede a Salvini ma tu credi in chi? E Salvini che probabilmente all'interno di una manifestazione con tutto il rumore tutto quello che succedeva gli altri presidenti si 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 e se n'è andato quello è stato preso come un supporto di Salvini a un movimento di QAnon e poi su questi piccoli su questi piccoli elementi le persone costruiscono dei castelli in aria per cui lo vediamo nel caso del premio Nobel lo vediamo nel caso del politico lo vediamo nel caso del del commentatore televisivo del commentatore radiofonico della persona del mondo dello spettacolo dell'epidemiologo dello scienziato eccetera eccetera quanti medici sono stati presi come i i difensori del movimento Novax da Bassetti in poi magari per aver detto alcune cose che all'interno della comunità scientifica hanno un senso ma che poi vengono prese da chi non non capisce non appartiene a quel dibattito e stravolte completamente andrì c'eravamo Giovanni che vorrà farci una domanda e dopodiché se non ci sono ah eccoci vai Giovanni sì grazie grazie allora professore una breve domanda secondo lei qual è il futuro di questi movimenti in America perché chiaramente ora Trump non è più presidente e non si sa se correrà o meno la prossima tornata elettorale ci sarà un futuro quale futuro sarà per per tali movimenti negli Stati Uniti saranno così rilevanti come lo sono stati ora e quindi sono stati sono stati pubblicizzati sono stati insomma sono comparsi spesso sui giornali oppure no cosa ne pensi mi sembra un'ottima domanda prima di farti rispondere faccio un passaggio sull'elemento geopolitico di tutto ciò cioè il fatto che queste cose nascano in America e poi si sviluppino in altre parti dell'Occidente fa parte della dinamica geopolitica piena piena per cui l'America è l'egemone e ha un'influenza culturale su gli altri paesi che fanno parte della sua sfera di influenza su di noi è un'influenza maggiore chiaramente perché perché culturalmente siamo più simili rispetto ad altri paesi che non sono egemoni però è il motivo per cui tutto quello che succede lì poi a un certo punto arriva qui da Me Too a QAnon passando per altri fenomeni culturali pop più o meno piacevoli è esattamente quello dell'egemonia geopolitica fatto questo passaggio Andrea ti lascio a te l'onere di rispondere alla domanda c'è un futuro per questi movimenti? allora intanto mi aggancio a quello che hai detto tu è sicuramente quella diciamo del fenomeno della trasmissione del diffusionismo culturale che avviene da un paese egemone culturalmente come gli Stati Uniti e poi si espande nell'Europa occidentale e nei paesi che più guardano gli Stati Uniti come un riferimento dal punto di vista culturale oltre alla Germania che è il secondo paese del mondo per per impatto di QAnon vorrei ricordare il Giappone che specialmente durante il periodo della pandemia e dell'isolamento sociale ha visto una crescita dei contenuti complottisti gigantesca rispetto rispetto al passato quindi ricostruiamo quella stessa dinamica che potevamo vedere per la musica pop o per i film la vediamo anche per la vediamo anche nel cospirazionismo adesso è proprio perché utilizza le stesse dinamiche gli stessi meccanismi di altri elementi della cultura popolare rimane poi l'elemento di paese terzo che crea le condizioni per quei fenomeni per crescere quindi l'intervento non ho avuto modo di parlarne ma l'intervento destabilizzatore della Russia durante le le presidenziali americane che non è intervenuta per far vincere Trump ma è intervenuta come è intervenuta in Germania come è intervenuta in altri paesi per creare destabilizzazione sociale quindi tutto il fenomeno del farming del memetic warfare e cose di cui avete di cui avrete sicuramente parlato o spero parlerete vede una tangente molto importante nel movimento cospirazionista il secondo è risposta alla tua domanda Giovanni diamoci del tu per favore sì io credo che sia qua per restare non vedo non vedo una diminuzione non spero di una diminuzione perché ci guadagni con queste cose lo dico no sto scherzando vabbè è il mio lavoro quindi ho un bias nella mia nella mia risposta sicuramente per temo però che sia qua per restare perché non è più solo un fenomeno di fringe non è più solo un fenomeno volatile che esiste solo tra virgolette nei social media solo perché poi l'importanza dei social media è fondamentale all'interno del meccanismo politico e geopolitico ma è anche un fenomeno profondamente radicato all'interno all'interno della società americana e all'interno dell'elettorato americano posso fare una brevissimissimissima follow up ma utilizzano telegram principalmente per parlare tra di loro o quale altra utilizzano quello che c'è quello che c'è quello che riescono ad utilizzare utilizzano anche le radio c'è un ritorno un ritorno un ritorno dei baracchini reddit reddit discord signal discord tantissimo e andiamo da Valeria grazie a te per la domanda tra l'altro ci tengo a dire che Andrea quando dice spero io personalmente spero che rimangano in realtà lui scherza ma questa è una dimostrazione di onestà intellettuale in realtà nel senso che ricordatevi ragazzi quando chiedete a un esperto di geopolitica dice ma le cose andranno peggio da un punto di vista geopolitica quanto sarà importante la geopolitica nei prossimi anni quello fa l'esperto di geopolitica dirà no la geopolitica è tornata ragazzi siamo nei casini se vai a chiedere a quello quanto saranno importanti la resistenza ai vaccini la resistenza agli antibiotici ti dirà che è il nostro più grave problema di sicurezza dovete trattare dovete trattare gli accademici come trattati i venditori di auto usate no ma insomma tutti quanti hanno un'agenda politica importante hanno un'agenda poi non so se è sempre politica però tutti quanti hanno un'agenda Valeria veniamo da te allora innanzitutto grazie per questa conferenza perché è stata molto molto interessante io poi mi occupo di educazione quindi ho continuamente a che fare con gli studenti e molte volte dobbiamo anche gestire il loro trovare continuamente fake news e usarle come fonti quindi assolutamente grazie la mia domanda è noi parliamo di cospirazionisti perché noi credo non siamo cospirazionisti allora la mia domanda è loro possono essere salvati ormai che ci stanno dentro oppure si può solamente puntare su un'educazione che prevenga questo fenomeno in futuro allora sempre prima di venire da te mi permetto di dire due cose attenzione Valeria perché già nel linguaggio si nasconde l'agguado perché già se tu fai loro noi stai creando una dinamica di in group out group che è tipica dei processi di radicalizzazione mi sbaglio Andrea no no non ti sbagli assolutamente questo sì però all'interno di questo contesto però trovavo interessante menzionarlo perché attenzione perché se incominciamo a dire loro sono così e noi siamo così secondo me la comunicazione diventa chiave però viviamo in un mondo in cui comunicare su determinati temi sta diventando complicato Andrea ma innanzitutto aggiungo che il cospirazionista non si crede un cospirazionista crede che gli altri siano siano cospiratori o cospirazionisti se parliamo di impatto psicologico qua non è esattamente il mio il mio domain io sono sono politologo sociologo quindi dal punto di vista psicologico psichiatrico o neuroscientifico le mie conoscenze traballano traballano parecchio quello che ho letto da contributi che stanno che stanno emergendo che vengono pubblicati su riviste specialistiche di psicologia o psichiatria il quadro che emerge è molto simile al quadro delle altre forme di estremismo o delle altre forme di addiction quelli come ho citato prima esistono dei programmi per cercare di non amo utilizzare questa parola ma non mi viene in mente nient'altro di deprogrammare in qualche modo gli individui che sono caduti all'interno delle ridiche ospiratorie in modo da aiutarli a emergere la domanda che hai fatto possono essere salvati credo di sì credo che alla fine alla fine ci sono casi di persone che hanno rifiutato che hanno rifiutato quel mondo ma è un mondo da cui è molto difficile uscire perché appaga dei bisogni psicologici molto banalmente qua di nuovo non voglio fare quella che in America è chiamata la Borestool Psychology ok non voglio non voglio cadere nello psicologismo vecero ma l'idea che certe persone che si sentono in qualche modo lasciate indietro tradite da società senza 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 un futuro economico senza senza una stabilità sociale ed emotiva l'idea che sia colpa di qualcun altro in qualche modo loro possono combattere questo qualcun altro è estremamente estremamente appagante a maggior ragione poi se ti senti un soggetto attivo in questa battaglia non semplicemente una pedina e uscire da quel meccanismo lì semplicemente dicendo alle persone guarda che questa è una cospirazione non se ne esce tantomeno chiamandoli stupidi direi no non so l'ultima volta che qualcuno è riuscito a cambiare l'opinione di qualcun altro partendo dal no 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 assolutamente e comunque no è molto interessante quello che dici tra l'altro penso che ci sia un accenno che dovremmo fare al fatto che chiaramente tutti questi fenomeni sono collegati ai processi all'impatto che i processi di globalizzazione hanno avuto sulla società per cui i processi di polarizzazione a livello sociale sono anche poi derivanti dal fatto che ci siamo persi per strada qualcuno nel corso dei processi di globalizzazione sia questa economica sociale culturale religiosa eccetera eccetera Roberta al volo ma proprio brevissimamente perché siamo fuori ogni tempo massimo sì allora solo una domanda al volissimo innanzitutto grazie per la bellezza dell'intervento e l'attualità soprattutto attuale sempre io mi domandavo quanto sia se lo è funzionale la logica cospirazionista alle dinamiche sociali anche a poter dare materiale tra virgolette di guerra a chi come noi si professa non cospirazionista cioè se tutto sommato ha una sua utilità sociale il fatto che si alimenti nel corso degli anni si alimentino queste logiche cospirazioniste in qualche maniera ci serve anche a noi per poter parlare per poter crescere come società il fatto che qualcuno sia cospirazionista Roberta tu stai andando al ristorante io lo so ti vedo che stai andando al ristorante ma a parte a parte questo la domanda è molto interessante per riassumerla direi sono è il virus che ci serve per sviluppare i giusti anticorpi e che ne dici Andrea esatto è una domanda molto difficile una domanda al volo ma una domanda è stranamente d'accordo nel senso sicuramente c'è questo elemento cioè sicuramente a livello di potenze occidentali noi ci siamo assopiti su quella che è l'idea della democrazia e questo potrebbe contribuire a fare uno swing back e a riportarci a discutere determinate cose però non so esiste in tempo fa esiste una una non la definirei una teoria ma esiste un approccio allo studio della devianza un approccio computazionale matematico che parla che ha elaborato negli anni l'idea di social backseeing di un vaccino sociale ovvero la necessità per le società di avere un certo numero di individui devianti al proprio interno quindi devianza in termini di violenza per esempio in modo tale da poter essere come società una società stabile una società pacifica quindi avere degli individui che commettono crimini o che commettono devianza serve agli altri individui per rimanere non devianti per rimanere normotipici da un punto di vista behavior da un punto di vista comportamentale io credo che in un certo senso ci sia anche quella teoria della prospirazione ma il problema è capire adesso se il vaccino è sfuggito di mano invece del vaccino ci troviamo di fronte alla malattia questo è un altro tipo di problema però credo che in un certo senso avere individui ai margini della realtà aiuti il resto della società e l'ha aiutato nel campo dell'antivax per esempio perché c'è stata questa dinamica accesa tra i pro-vax i pro-vaxer esistono perché esistono gli antivaxer quindi persone che militano per incrementare il numero di vaccinazioni non parlo ovviamente delle istituzioni ma parlo di persone che fanno propaganda pro-vaccine da quel punto di vista anche online cercano di diffondere notizie vere contro le notizie false è una reazione all'esistenza degli antivax e all'esistenza dei no-vaxer e questo funziona sia a un punto di vista sociale da quello che vedo che a un punto di vista psicologico perché anche qua paga certi certi bisogni di sentirsi moralmente superiori e certi bisogni di sentirsi più pro-sociali rispetto rispetto agli altri nel lungo periodo però non sono sicuro che questo possa aiutare invece che polarizzare la situazione questo non riesco a rispondere alla domanda mi spiace da quel punto di vista mi sembra che in ogni caso allora innanzitutto se siamo qui è proprio perché siamo una reazione a questa cosa qua quindi tutto sommato qualcosa di positivo ne verrà fuori ma mi sentirei anche di dire qualcosa in più nel senso la la pandemia se ci ha lasciato una lezione ci ha lasciato sicuramente una lezione che è quella per cui determinate conoscenze non possono rimanere nei salotti dei circoli accademici o degli esperti che si occupano di determinate cose ma c'è la necessità da parte della scienza qualunque essa sia una scienza tradizionale ma anche la scienza che è un pochino più nostra intesa come mia e di Andrea quindi la scienza politica e degli affari internazionali eccetera eccetera di andare lì fuori e trasmettere un messaggio trasmettere conoscenze fare un'operazione anche di semplificazione che per un largo periodo di tempo noi non abbiamo fatto e quindi ci siamo perduti abbiamo lasciato un po' di gente per strada la pandemia ci ha insegnato che invece questa cosa va fatta assolutamente perché altrimenti se non spieghiamo come è complicata la realtà inevitabilmente poi le persone si vanno a rifugiare in qualcos'altro chiaramente non è così semplice mi verrebbe da dire per tornare da quello che dicevi tu Andrea che sicuramente toccherà passare per un periodo di polarizzazione maggiore prima di di venire a vedere la luce alla fine di questo tunnel e devo dire le prospettive sono un po' preoccupanti anche perché noi oggi abbiamo guardato la cosa con una prospettiva molto occidentale però ricordiamoci che ci sono dei paesi con un equilibrio politico molto più fragile del nostro con una cultura democratica più fragile della nostra alcune volte senza cultura democratica e con una demografia completamente in espansione e che da questi fenomeni potrebbero uscire devastati faccio un nome per dirne per dirne uno la Nigeria tra nei prossimi dieci anni diventerà il paese più popoloso del mondo abbiamo circa 285 diversi gruppi etnici differenze politiche differenze religiose immaginate il disastro che disinformazione e misinformazione possono fare in questo contesto e viene giù una Nigeria nel contesto africano è un disastro di proporzione globale va bene non so se volevi aggiungere qualcosa altrimenti perfetto allora ti ringrazio tantissimo Andrea come al solito on point e grazie a Valeria che mi sono dimenticato di ringraziare per la sua domanda e grazie anche a Roberta e grazie anche a Giovanni che era la persona che aveva fatto la domanda ancora prima e grazie di essere stati con noi in questo venerdì sera che è venerdì sera solo per noi Andrea tu c'hai ancora la tribolare per un po' di ore di mattina però noi alla fondazione dei gasperi siamo sempre contenti di averti con noi e cerchiamo di fare come dire da nostra parte anche con l'aiuto di amici come te e di amici come quelli di Start Insight di fare la nostra parte per vivere in un mondo un pochino più come dire di cui capiamo un po' meglio le dinamiche e se le capiamo un po' meglio le dinamiche ci possiamo orientare meglio e se ci orientiamo meglio siamo dei cittadini migliori grazie a tutti grazie ciao